Ciao bella gente, benvenuti in mio canale, io sono Male e oggi voglio parlarvi di capelli ricci. Allora, voglio parlarvi della mia esperienza lunga con i capelli. Io quando ero piccola avevo i capelli super secchi, super crespi, il capello era proprio spesso grosso, cioè aveva una testa così però di secco, non aveva nulla di bello. Da piccola, ovviamente usavo tantissimi trattamenti naturali, ho provato praticamente di tutto. Allora, all'età di 12 anni più o meno ho deciso di fare il trattamento lisciante perché praticamente erano indumabili. Io credo, mi ricordo, che ho passato l'infanzia, ho passato l'adolescenza a trovare le conciature ideali per i miei capelli perché era veramente una cosa orrenda. Tra l'altro, anche se facevo la creatina lisciante, comunque rimanevano gofi, io non ho mai avuto i capelli lisci, quelli morbidi, fini che scendono, era un sogno per me. Allora, nel corso degli anni, comunque come ho spiegato, ho fatto tanti trattamenti, tanti sia naturali che la creatina. All'età di 20 anni, credo, mi ricordo, 20-21 anni, ho deciso di, basta, ho finito con la creatina perché i capelli ce li avevo sfibrati, che si spezzano, erano diventate una cosa, proprio una ciocca così, però con tanti capelli così tutti spezzati erano orrendi. Niente, ho deciso di non usare più la creatina e dopo, credo, un anno o due, ho cominciato a notare che hanno cominciato a fare delle onde, ma non erano ricci, proprio erano capelli ondulati. E da lì ho cominciato a utilizzare dei prodotti che sono idratanti, vanno bene per i capelli mossi, tutto il resto. Non so cosa è successo, io non posso, non so spiegarvelo. A un certo punto sono cominciati a gonfiarsi e a fare il riccio afro, perché adesso ce l'ho belli, belli. All'inizio erano passati da ondulati a cappello riccio afro, fine, 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 fine. Erano grossi, cioè avevo i capelli lunghissimi, però mi arrivavano, erano così, così proprio. E niente, comunque io continuavo a utilizzare le maschere per i capelli, continuavo a usare i trattamenti per i capelli, tuttora io continuo. Però il cambio del capello, io non vi lo posso spiegare, perché dipende da tanti fattori, dall'aria, dall'acqua, se l'acqua dolce, secca. L'unica cosa che ho imparato nel corso degli anni, come asciugarli e come utilizzare i prodotti, quali sono i prodotti che vanno bene per i capelli ricci. Le maschere sono ad esempio fondamentali per i nostri capelli, perché ad esempio i capelli ricci si seccano velocemente, molto velocemente. Poi dipende, perché se sono capelli ondulati è una cosa, se sono capelli ricci è un'altra cosa, però il risultato credo che è uguale, dopo qualche giorno si cominciano a seccare. Tra l'altro i capelli ricci non è che si possono lavare due o tre volte al settimana, cioè i miei capelli li lavo una volta al settimana d'istate, poi dipende, sono sudata, se mi sento un po' così li lavo. Perché tra l'altro lavandoli spesso già abbiamo i capelli secchi, abbiamo la radice secca, quindi se li laviamo li disitratiamo. Dunque comincio con farvi vedere l'ingrediente che io utilizzo. Grazie ragazzi, olio di lino, l'olio di lino che è consigliatissimo per i capelli ricci, per i capelli secchi, per i capelli disitratati, perché costruisce proprio la fibra capillare, aiuta la costruzione del capello, dei capelli, di trattare, renderli più elastici, combatte la doppia punta e combatte la forfora, per cui si consiglia tantissimo l'olio. Il secondo prodotto che voglio presentarvi è l'olio di ricino. Io l'ho comprato da Aromazone, ma lo trovate anche nelle erboristerie. L'olio di ricino, che è un olio vegetale denso, è una cosa, una tocca sana per il nostro corpo, per i nostri capelli, unghie e anche le ciglia, perché praticamente costruisce, idrata, limitivo, rinforzante, aiuta, dà lucidità sia ai capelli che alla pelle, praticamente crea una pellicola, fa modo tale che non fa evaporare i liquidi, da sia dei capelli che dalla pelle, che ci tiene idratati. L'olio di ricino io ve lo consiglio tantissimo, dovete utilizzarlo spesso, dovete inserirlo nella vostra quotidianità. Io ad esempio lo uso tutti i giorni per le ciglia, per rinforzarli. Olio di ricino, ve lo consiglio, guarda, soldi, spesi, benissimo. Olio di avocado, ha una proprietà generativa, nutritiva, ristrutturante, riduce l'idratazione per la pelle e i capelli e anche anti-invecchiamento. Io lo inserisco sempre nei miei trattamenti, non so quanto costa in Italia, però io qua l'ho pagato 4,50 euro, sono 250 ml. Questo qua ce l'ho da più di un anno, io li metto in tantissimi trattamenti, sia maschere, impacchi per il corpo, per la cellulite, per il viso, per i capelli. Cioè lo uso tantissimo, ragazzi, questo qua è un elemento fondamentale per i trattamenti che possiamo usare per tutto il nostro corpo. Adesso voglio presentarvi l'olio di ergan, l'olio di ergan che ha la vitamina A e la vitamina E, che vanno benissimo per costruire la nostra pelle e i nostri capelli. Io utilizzo abbastanza nei miei trattamenti, nei miei impacchi e nei miei maschere. Ho la fortuna, e questo qua me l'ha portato la mamma dal Marocco, allora io vi consiglio di andare nei bazar marocchini che hanno delle bucette piccole e sono al 100% olio di ergan. Non credo che costa tantissimo, costerà sul 2 o 3 euro al massimo. Dico, l'unica pecca che ha questo olio, che ha un odore abbastanza forte, cioè nel senso, può piacere o non può piacere. Ad esempio, io lo trovo forte tanto, tanto, infatti per quello è difficile che lo uso dopo, perché ad esempio anche nello spray che ho utilizzato, ci ho messo pochissimo. Io lo consiglio per impacchi, 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 non usarlo proprio come prodotto che deve rimanere proprio sulla pelle e sui capelli, perché ha un odore abbastanza forte. Che tra l'altro, questo olio è proprio per massaggi, per corpo, per impacchi, perché l'olio di ergan, per chi non sa, è un olio come l'olio extravergine, che si usa nel... si mangia tranquillamente. Però questo qua assolutamente no, perché questo qua è fatto apposta per i trattamenti per il corpo. Deve essere al 100% naturale, perché ad esempio, lo trovate anche nelle erboristerie e nei negozi, però molto molto difficile trovare l'olio di ergan puro al 100%, che tra l'altro io, anni fa, prima di aver questo qua, lo compravo dall'erboristia. Costa un'ira di Dio e tra l'altro non è puro, perché l'olio di ergan si sente l'odore, ha un odore abbastanza forte. Se non ha nessun tipo di odore, non è olio di ergan, ve lo garantisco. L'altro prodotto che voglio presentarvi, ragazzi, credo che lo conoscete, lo sapete, è l'olio di cocco, che tra l'altro mi è rimasto pochissimo. L'olio di cocco. Una tocca sana per il nostro corpo, una tocca sana per i nostri capelli, per il nostro corpo proprio da mangiarlo. E' fantastico. Tra l'altro farò un video specifico, solo, esclusivamente, sull'olio di cocco, che vi spiego le maniere per utilizzarlo, sia l'olio di cocco che il latte di cocco. Dunque, l'olio di cocco per i capelli è una tocca sana. Per i capelli ricci, tra l'altro, perché questo qua va benissimo per i capelli secchi, va benissimo per i capelli ricci, va benissimo per i capelli sfibrati. E' fantastico, super, 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 super idratante, perché questo qua potete fare sia impacchi per i capelli, maschera, eccetera, sia proprio come l'olio in sé, lo passate e lo prendete e lo passate direttamente sui capelli, sulle punte, perché li lascia abbastanza idratanti, abbastanza lucidi. Adesso voglio parlarvi di l'olio di jojoba, un olio fantastico, meraviglioso, anche questo ve lo consiglio. O un olio che praticamente rinnova le cellule e quindi va benissimo per usarlo come anticaduta per i capelli. Ha la vitamina E anti-invecchiamento, tra l'altro è consigliatissimo per la pelle, perché aiuta a regolare il sebo sulla pelle, quindi va benissimo sia per la pelle secca, la pelle mista e la pelle grassa. Per i capelli uguali, questo qua va bene. Ragazzi, questi qua sono gli oli che io utilizzo nella mia quotidianità. Tra l'altro, nell'altro video, come vi ho spiegato, vi trovate questo spray che io ho preparato, tra l'altro vedi che ho già usato un bel po', per i capelli, perché io lo spruzzo così. Come sapete, i capelli ricci, voi i capelli crespi, si seccano velocemente. Tra l'altro ha un buonissimo profumo perché ci ho messo anche l'acqua di rose, per tenerla un po' di fresco. Allora, un altro argomento in cui voglio parlarvi. Riccio varia da una persona all'altra, tra l'altro sapete che comunque i ricci ci sono diversi tipi, diverse maniere. A me i capelli ricci mi piacciono così, mi piace tantissimo questo effetto afro. Come ottenerlo? Il consiglio che posso darvi è quello di, quando lavate i capelli, mettete il balsamo, perché noi, io so quanto balsamo ci mettiamo, una quantità industriale, dobbiamo sciacquarli bene. Io li sciacquo bene, 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 perché la radice deve essere pulita, 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 non deve avere nessun tipo di unto, perché quando metti tanto prodotto, tanto balsamo, anche quando esci dalla doscia e ci metti tanti prodotti dalla radice e impensantisce il capello e quindi si divide o di lato o dal centro, però si divide. Sì, ti fa quell'effetto capelli belli ondulati, perché per ottenere quel capello ondulato perfetto, il capello deve essere idratato. Quindi io uso i prodotti idratanti sulla punta, per avere, come vedete qua, il riccio, il riccio bello, il riccio afro. Se io uso tanto prodotto, mi si impensantisce, scende e non mi piace, a me non sto bene, non sto bene con i capelli con la riga in mezzo, cioè di lato, la uso spesso, però in mezzo, così a me non piace. E un altro elemento fondamentale per i nostri capelli è il pettine. Io ho usato tantissimi pettine, ho provato tutti i pettine, quelle che dicono che sono fantastici, meravigliosi. Ragazzi, questo qua non credo che arriva a un euro, questo qua costerà 50 centesimi. Se andate dai bazar marocchini, questo qua è il pettine classico marocchino, cioè proprio questo insa questo non si può vivere. Perché tra l'altro, negli altri video vi ho fatto vedere come tratto i miei capelli ricci dopo il lavaggio e farò migliaia di video come tratto i capelli dopo il lavaggio. Questo pettine qua è fantastico perché tra l'altro, vedete i denti come sono, pettina che è una favola, dà una soddisfazione alla pettinata meraviglioso, quando sono tutti pettinati. Quando pettinate, praticamente dovete appoggiare i capelli proprio su questa linea qua. La vedete? Questa linea qua. Perché grattando contro, praticamente, non so, sai quando fate il fiocco per i regali e grattate la forbice contro la striscina, la striscia, e fa proprio l'effetto proprio riccio così? È la stessa identica cosa. Quindi lo dovete utilizzare in questa maniera. Tra l'altro, io pettino tutti i capelli, tiro su e boom! Se io non invento una serata particolare o una giornata speciale, pettino parte per parte. Divido i capelli proprio così e pettino parte per parte così il riccio viene proprio diviso, viene voluminoso e danno un effetto bello. Solo che quando lavo i capelli di normale non è che sto là, c'è già una ruttura a stare lì a pettinarli per mezz'ora sotto la doccia. Capirai che io quando esco devo stare lì a pettinarlo ciocca per ciocca. Quello io lo faccio solo in occasione speciale. La prossima volta che faccio un impacco, faccio un trattamento per i capelli, vi faccio vedere. Altri consigli per i capelli ricci, ragazzi, gli elastici che usate. Io vi consiglio questo elastico qua, che non danneggia i capelli, non rimangono impigliati su, vedi? Non rimangono capelli su, fantastico e non vi rovina il riccio, perché i capelli si incastrano qua in mezzo e non si rovina il riccio. Questo qua è importantissimo per le ragazze che hanno avuto l'esperienza come me, che sono trasformati i capelli nel corso degli anni, o le ragazze che hanno fatto dei trattamenti per avere i capelli così ricci. Senza questi io non posso vivere, io non ho gli altri elastici normali, non li uso perché danneggiano e poi tra l'altro si è tirati sui capelli, prende proprio la forma, orrendo. Altra cosa, io per dormire non posso andare a dormire con i capelli così, perché mi sveglio al mattina, con i capelli schiacciati in questo modo e poi si rovina. Cioè davanti i capelli meravigliosi, dietro sono tutti schiacciati. Tra l'altro io se appoggio la testa contro la parete mi rimane proprio la forma. E quindi cosa faccio? Faccio l'effetto ananas, chi non lo conosce. Praticamente mi tiro su i capelli, mi tiro su in questo modo e voilà. Ovviamente questa parte qua tanto non si vede, anche se si rovina col cuscino non importa perché tanto nessuno va a guardarvi proprio dietro. Io uso questo effetto qua. Però, come vedete, non metto l'elastico, lo faccio cominciare da qua perché se io prendo anche questa parte qua, il giorno dopo quando mi sveglio il riccio mi si comincia così, mi fa proprio questo effetto così, quindi cerco di evitarlo. Tolgo via questo, faccio così, sistemo i capelli. In questo modo è la mia salvezza. La uso su tutti i capelli e voilà. E' quello il vantaggio di avere i capelli ricci. Ti svegli al mattina e vai. Ti trucchi e sei a posto. Gente, spero che vi è piaciuto il mio video. Sono contentissima di condividere con voi i miei pensieri, i miei punti di vista per i capelli. Mi raccomando, seguitemi nel mio canale Specchio di Amal su Instagram e su Facebook perché là tutti i giorni metto degli ingredienti nuovi, metto dei consigli nuovi, metto dei maschere, delle cose che non devo per forza fare proprio un video su YouTube. Io il video su YouTube lo faccio su dei trattamenti, delle cose che non sono proprio ovvie. Ok? Mettete mi piace e seguitemi sul mio canale. E alla prossima e grazie mille. Buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.